Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda di un chilometro in diminuzione tra BV1 variante Sasso Marconi verso Bologna per perdita di carico. In Fipili resta un chilometro di coda per un veicolo fermo o in avaria tra Ginestra e Lastra Signa verso Firenze, rallentamenti sempre verso Firenze all'altezza di Firenze Scandici. Per lavori inoltre in Fipili questa notte in orario 22.06 sarà chiusa la carreggiata tra Ponte della Oves, Ponsacco e Ponte della Est nella carreggiata verso Firenze. Prima di salutarci per il traffico aereo il volo Firenze Francoforte delle 10.05 al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 12.10, il volo Firenze Bruxelles delle 11.45 alle 12.20. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!